Nel 2021, nei paesi a basso e medio reddito, 9 persone su 10 potrebbero non avere accesso al vaccino. Oggi siamo qui per chiedere alla Commissione europea di sostenere alla riunione mondiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio la proposta di India e Sudafrica per una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini e sugli altri prodotti contro il Covid-19. Da questa pandemia se ne esce attraverso la solidarietà e il diritto alla salute per tutti. Nessuno si salva da solo. Il diritto alla salute è un diritto umano e tutte e tutti nel mondo devono poter avere accesso ad un vaccino equo e sostenibile.